Benvenuto in questo canale YouTube. Questo è il canale dell'Associazione del Punto Zero ed io sono il suo presidente. Mi chiamo Loris Sicchetti. In questo canale andremo a condividere decine e decine di contenuti gratuiti legati al settore olistico. Quindi vari webinar che andiamo a fare ad operatori del settore olistico, a professionisti e tante altre iniziative della nostra associazione. La nostra associazione è nata con lo scopo di fornire a tutti quanti i nostri soci gli strumenti per diventare liberi ed autosufficienti ed andiamo a fare questo in diverse iniziative, tra cui l'Accademia del Punto Zero. Abbiamo creato un'Accademia di oltre 150 ore di videocorsi nel settore olistico in costante aggiornamento, in un'unica piattaforma e tutto quanto incluso. Quindi se sei interessato a vari argomenti del settore olistico come floriterapia, elettrocultura, radioestesia, radionica, numerologia e tanto tanto altro, qui hai trovato il tuo posto definitivo. In questo gruppo trovi delle anteprime, delle interviste che andiamo a fare e se vuoi iscriverti proprio all'interno della nostra Accademia ti invito a cliccare nel link che trovi qui e a guardare tutti i corsi nel nostro sito. Ma non è solo questo il nostro obiettivo principale, il nostro strumento principale, ma abbiamo anche altre iniziative come le intenzioni collettive che andiamo a fare in collaborazione con altri gruppi che ci sono in Italia. Il nostro scopo è raggruppare migliaia di persone che tutti insieme lanciano un'intenzione collettiva in quanto crediamo al 100% nel potere del pensiero e che è il pensiero a creare la materia. Quindi stiamo promuovendo e stiamo sviluppando veramente bene questo progetto di intenzioni collettive e qui le troverai, le metteremo anche sul canale YouTube. In più stiamo creando il Laboratorio del Punto Zero, un laboratorio di ricerca scientifica libera che ha lo scopo di creare la tecnologia del futuro. Una tecnologia che dà libertà a tutti quanti, quindi libertà dal punto di vista energetico, di salute fisica e tanto tanto altro. Quindi ti invito ad iscriverti nel nostro canale, trovi qui in basso la campanellina per iscriverti, ad iscriverti alla nostra associazione più accademia, trovi qui tutti quanti i link, ad iscriverti nel nostro gruppo Facebook, trovi anche qui i link, ad iscriverti al nostro canale Instagram e seguirci quindi in tutte quante le nostre iniziative. Ti assicuro che troverai argomenti veramente particolari, molto difficili da trovare in giro. Quindi ti ringrazio per aver visto questo video, ti mando un caro abbraccio e un caro saluto da Loris Sicchetti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.